allora ero giovane e dovevo cominciare a lavorare e mia nonna un giorno mi prese da una parte e mi fece un discorso modifazionale e quel giorno mia nonna aveva due palle grosse così come guardate le mani guardate le braccia e praticamente erano due comitoli di lana lei stava preparando il corredo per mia sorella e che ancora doveva nascendata dei giorni dopo che la settimana si cominciava presto a fare queste cose e mi fece queste bacchette da sardatrice perché i feri aveva finiti che saranno tutti e mi fece questo discorso a rete unificate nel quale mi diceva ricordate nonna che il lavoro nella vita è importante ti permette di andare avanti e di avere tutto poi invece ho scoperto tanti anni dopo che se tu ti metti davanti e gli permette a tutti quanti di fatte tutto sicuramente ci avrei successo basta che ti metti in ginocchio su tre piedi davanti a tre piedi davanti a tre gambe come te pare e avrai il successo assicurato anche successo